buongiorno amici e rieccoci con un nuovo video oggi un video molto breve che sarà il primo di tre video complessivi dove andrò a modificare il mio setup e probabilmente anche il mio modo di giocare in questo video vi mostro come sto craftando la mia protezione facciale composta da degli occhiali a rete ed una maschera facciale anche sarete unite assieme con delle fascette da elettricista sostanzialmente applico della corteccia di varie tipologie di piante essiccata con della colla a caldo e riempio i buchi rimanenti con del muschio sempre essiccato anch'esso attraverso la parte del muschio i buchi rimanenti con del muschio i buchi rimanenti con del muschio e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.